Ciao a tutti, voglio lasciarlo ma non ci riesco. Che fare? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E ti ricordo gli appuntamenti con i miei seminari. Venerdì 24 gennaio 2020 a Torino, ora 20.45, il seminario dal titolo Se soffri non ne amore, come far innamorare la persona giusta. E domenica 1 marzo a Milano fu un immersion dalle 9.30 alle 19 autostima e seduzione in amore e nel lavoro. Per entrambi il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che se tu non potessi frequentare i corsi del vivo puoi abbonarti al canale Massimo Terramasco andando sulla home page, a fianco al tastino iscriviti, c'è il tastino abbonati, ti abboni e potrai iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. Allora, se tu vuoi lasciare una persona ma non ci riesci, significa che ti stai automanipolando o manipolata da qualcuno, dalla persona che cerca di tenerti legata. Però tieni presente che noi non possiamo essere manipolati se non siamo complici del manipolatore. E quindi cosa significa questo? Significa che ci sono delle ragioni di stato, tra virgolette, dei blocchi che ti impediscono di fare questo. I blocchi quali sono? I blocchi sono sicuramente la paura del giudizio e quindi temi che qualcuno possa giudicarti negativamente. Questo qualcuno può essere tua madre, i tuoi genitori, altre persone o addirittura la persona che tu vorresti lasciare, oppure figli se hai dei figli. Quindi questo genera dei sensi di colpa che possono essere anche molto forti. E poi ovviamente chi ti manipola, diciamo cioè la persona con la quale stai, cercherà in qualche modo di tenerti legata sfruttando proprio queste debolezze. Quindi se vuoi lasciarlo devi andare a eliminare i blocchi, il blocco del senso di colpa è sicuramente il blocco più forte, ma anche altre paure che possono essere la paura della solitudine, cioè il sentire che se chiudi la relazione con questa persona non verrai accettata da qualcun altro e dovrai fare una vita di solitudine e la paura dell'abbandono, perché se hai avuto un vissuto di abbandono è ovvio che lasciare qualcuno ti farà rivivere l'abbandono e quando viviamo l'abbandono iniziamo ad avere attaccamento, attaccamento per la persona che ci interessa, attaccamento per la persona che vorremmo lasciare. Quindi questi sono i meccanismi che si verificano. Allora quindi l'unica cosa importante che tu devi fare è ascoltare te stessa, perché se ascolti te stessa ti arrivano le risposte. Quando tu hai deciso di lasciarlo devi semplicemente trovare la motivazione. Talvolta basta un atto di coraggio, perché assecondare le paure significa amplificare le paure, invece andare contro le paure significa ridurle. Prendi tutto il tempo necessario e poi diciamo così chiudi decisamente definitivamente la storia e vedrai che ti troverai subito meglio, come si troverà poi meglio anche l'altra persona. Per questo video è tutto, ti ricordo l'appuntamento di Torino venerdì 24 gennaio ore 20.45 con il mio seminario sul tema come eliminare la paura dell'abbandono effettivo e del rifiuto e se dori chi vuoi. E l'appuntamento di Milano, poi c'è anche il seminario di venerdì 24 gennaio 2020, il seminario se soffri non è amore a Torino, sempre venerdì 24 gennaio 2020 a Torino, se soffri non è amore come se dura la persona giusta. Riferimento 333 15 11 703 e l'appuntamento di Milano domenica primo marzo dalle 9.30 alle 19 full immersion, autostima e seduzione in amore nel lavoro. Il riferimento sempre al 333 15 11 703. Grazie a tutti.